Non può restare qui. Dobbiamo trovarle un marito. Io me ne vado via. Ma i sacerdoti fanno il volere di Dio. Giuseppe! Giuseppe! Quella chi è? Lei è Maria. Me l'hanno affidata ai sacerdoti del tempio. Sei troppo vecchio. Mi vergogno di te. Un mistero grande dentro di me sta nascendo. Fattene! Non ti voglio sotto il mio tezzo! Giuseppe, ti prego! Lascia che la sposino. La vergogna verrà dimenticata. La Sacra Famiglia. Io amo Maria. Prima parte. Venerdì alle 20.55.